Una risposta solidale all'emergenza da Covid-19 arriva dalla cooperativa Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia. La batteria sociale e didattica La Volpe Sotto i Gelsi, che da tempo offre un servizio di consegna di cassette con frutte e verdure biologiche, ha attivato in aggiunta a questo servizio uno nuovo, pensato per aiutare le persone in questo particolare momento legato all'emergenza coronavirus. Si tratta delle cassette BioKit anti-Covid-19, con consegna a domicilio gratis nel comune di Casarsa della Delizia, San Giovanni Compresa e San Vito al Tagliamento. Una iniziativa che amplia ulteriormente la consegna di cassette bio inserendo la possibilità di avere cassette con frutta e verdura, ma anche con beni di prima necessità, come pane, pasta, latte, caffè e prodotti per l'igiene personale per la casa. Per dare una risposta solidale e concreta a chi si trova in questo momento in difficoltà, anziani soli, soggetti a rischio, persone malate, over 65.